Stavo... ci sto riflettendo Cosa potresti fare qualcosa... se potessi fare... se avessi potuto fare qualcosa di diverso Mi sono piaciuto Migliore Gina, Regina Mi sono abbastanza piaciuto Grande, Gin! Mitico, mitico, mitico Fa piacere Non so quanto Milaos sia forte, eh, onestamente, a dirla tutta Però ci sono i draghi, ci sono gli elementali Best art con Milaos, sì, 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 tenente ero bestia Comunque, oggi, secondo me, abbiamo capito un po'... stiamo capendo un po' di cose Per quanto le cose non stiano andando benissimo Dobbiamo capire quali sono i game in cui dobbiamo accontentarci E questo è un game in cui dobbiamo accontentarci, l'abbiamo fatto, bene Attacco io, attacca lui Come ho fatto a perdere? Che c'ha? Ah, c'ha la 2-3 Reborn Quindi attacco io, attacca lui, attacco io C'ha la 2-3 demone, no? Oppure... come cazzo ha fatto a perdere? C'ha niente, c'ha... C'ha il pirata Che cazzo c'ha? Ma non c'ha... non ha giocato... non ha giocato a T1 Ma come non ha giocato a T1? Ah, perché era controllo e Hangnaos e non voleva dargli... Ah... Mazza, che cattiveria A dirla tutta io non l'avevi fatto mai Si prende... All the Atis Coppia All muelok Questo è muelok Dove ha teplato Coppia sempre con Milaos Mi piace che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, eh, ragazzi Faze la 1-3? Sei pizze per noi La 1-3 si poteva frizzare però Lo ammetto Come va là fuori? Quello è interessante perché Il roll ci sta Ma anche non fare nulla ci sta Continua così Forza Vediamo cosa ci esce, va Belli Però le rapiglio Probabilmente vanno anche il ratto Ok Questo turno Spero di non avere problemi a vincere questo fight Sarebbe un problema se io perdessi questo fight Infatti Immaginavo Io potrei avere il 100% Avessi preso un mech lo stesso Secondo me prendere mech lì è sbagliato Onestamente Ma anche te l'ha dato bene Non che fosse utile Mi ho fatto 11 invece di 10 Vabbè Coppie Vendo lui Lo rimetto nel pool Lui è quello di prima Ma perché devo mettere lui lì? Quando posso mettere lui qui? Meglio no? Tipo no mi vinco Buona La partita la vince lei O a A nomi turno 6 Sì a nomi turno 6 Io qua devo livellare Non posso fare Nient'altro Io credo Io oggi con nomi ho fatto una goccina 100-100 Andano male goccina 100-100 Ha detto Mi piace goccina 100-100 Abbastanza carina Eh cazzarola Che è? La sacra taia di ha trovato lui In un turno taverna 3 Uno eh Non ha giocati tanti turni taverna 3 Uno Li ha trovati tutti Piccchiate con il guardiano di peonzo Eh no Va bene Allora Bello Bello Che caro è Che cattivo è Che cattivo è Che cattivo è Tu prendi idea? Ok Mi ma è tu Eccati, come va là fuori? Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle a parte? Cazzo me ne fega di questo, vabbè Un servitore in meno, una moneta d'oro in più Anche a me non piaceva, eccoti una moneta d'oro per il dietro Sistema di pensiero attivato Se io qui lì prendo maggio il domo sono morto Risco di morire uguale 3 hit perfetto Madonna santa Ma che è una partita? No, è male? No, eh Una partita di quelle tranquille No, mi è sbagliata Vabbè, non lo piglio Potevo legare il muoilock, quello sì Ciò piace Mi ha fatto un po' No, no, no No, no 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 Gli do una baffatella a quella lì Ora forse basta Il buff idea Potrebbe bastare direi Madonna Una delle vette più intense mai giocate Queste Madonna è uscito fuori un turno Pazzesco quello di prima Tanto la margadona era sbagliato Secondo me si In realtà Lui Ci serve in qualche modo Costa poco C'è merda La calma del caos Ce lo fa rivedere quel turno per favore Eh Ecco Attenzione Perché è un attimo che Che sfighiamo l'universo Vedendo dove va quel veleno Ecco Caire All Si Oh si Oh si Perchè Perchè C'è più bene Non sconto due roll Eh no Non funziona Sconto Un roll Sol Guarda un bel buff Oh finalmente Che giusto è giusto Potrei togliere questo uovo Ah dovevo giocare prima lui Per questo esatto motivo Posso fare un roll Compio lui No facciamo il roll No facciamo il roll Chiediamo taunt Allora Posso fare un altro colpetto No da fuori Come margadone primo Mi ha dato una esperienza una follia Ok Perché non secondo me Magadona il taunt Sono molto morto Rivela se mi serve Secondo me no Però dovevo farlo prima chiaramente Dovete forse Ancora per fare idea Per portarla a qualcosa di grosso grosso Potrebbe essere incisivo Contro gli elementali mega giganti Frizzagattina Vendi pezzi Fai il tripla al sei Bell'idea questa Matteo Questa è un'idea pazzesca Perché ho schippato il P6 Salute dagli amagadoni Ho sbagliato Però il mentre lo dovevo prendere Il P6 salute dagli amagadoni Anzi Non credo che l'Ileag sia meglio Di maggior domo Cioè io preferisco questo Potrebbe tripla il mio amagadone Però i buff sono giganteschi Cioè È meglio Argus Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro So che ne perdo uno Meglio continuare a buffare idea O l'elementale del fuoco beando Non so quanti buff mi prende qua 20-20 1.996 Qui No Ehi Addios Bello Bello Poi andare con quella povera Eh Meglio assoldare una recluta Finché puoi farlo Uh Non mi tripla amagadone Non tripla il mio amagadone Abbiamo Nadina è a un fine tuo Un servitore in meno Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Meglio assoldare una recluta Finché puoi farlo Bella scelta Molto Tattica Muoviti Sta laggando tutto Circa No vabbè Che modi sono questi E' caroce la mia idea Bello che lui è enorme ragazzi E' enorme Letteralmente gigantesco È stato facile Oddio Oddio mio Che modi sono